Non c'è pace per il cantiere di Porta Ovest. Ieri l'altro di sequestrato è oggi nuovamente chiuso. In mattinata gli agenti della sezione operativa della DIA di Salerno hanno infatti dato esecuzione al sequestro preventivo del fronte di scavo del cantiere, avendo rilevato la probabile commissione del reato in relazione alla contestata ipotesi delittuosa di cooperazione colposa nel crollo di una parte della galleria. Le indagini condotte dalla DIA di Salerno, nonché le consulenze tecniche e gli accertamenti tecnici effettuati dalla procura presso il Tribunale di Salerno, hanno evidenziato che i lavori procedevano in assenza delle prescritte autorizzazioni necessarie trattandosi di realizzazione di un progetto esecutivo in difformità rispetto al progetto definitivo approvato ed appaltato, in particolare la realizzazione delle perforazioni sui tratti di galleria, come notevolmente modificati, solo con il progetto esecutivo avveniva senza i prementivi accertamenti. Solo perché erano cessate le esigenze probatorie strettamente connesse all'esecuzione degli accertamenti irripetibili, scrive in una nota la procura. Era stato disposto il dissequestro dell'opera con la prescrizione di ultimare i lavori di messa in sicurezza che a quella data non avevano superato il 50% delle opere che dovranno continuare secondo il cronoprogramma autorizzato. Il sequestro eseguito oggi invece, si scrive, risponde ad esigenze del tutto diverse, ovvero alle esigenze preventive per la pubblica incolumità connesse alla continuazione delle opere di escavazione. In conseguenza del provvedimento di dissequestro probatorio e del successivo decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, non sarà dunque possibile proseguire l'attività di scavo, mentre continuerà l'attività di consolidamento dell'opera già realizzata al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori cedimenti. Grazie.